Avio e Rugby, come nasce l'idea di questa partnership? Il passaggio indietro significa coinvolgere il più possibile i lavoratori che sono rimasti indietro, i nostri colleghi che non sono stati più coinvolti in alcuni progetti, portarli insieme a sé a raggiungere la meta, quindi a raggiungere il traguardo aziendale comune e condiviso. Quindi speriamo che con questa partnership si possa portare sempre più in alto questi valori dello sport e delle società, perché poi non ci scordiamo che per quanto riguarda anche molte attività di formazione il rugby è stato utilizzato, per esempio penso ai vari team building organizzati ultimamente da varie società, è stato organizzato come metafora fondamentale per rappresentare alcuni valori dello sport e dell'azienda. Il lancio della squadra, parlavate di ottobre, quindi si cercherà di fare un binomio? Sì, allora speriamo di fare un doppio lancio, dunque sicuramente il lancio di Vega C, che è il nostro nuovo vettore che abbiamo presentato prima, sarà nell'ultimo trimestre del 2020, adesso definire il mese non lo sappiamo ancora, potrebbe essere ottobre come potrebbe essere dicembre, ma sicuramente nell'ultimo trimestre come ci sarà il lancio della squadra di rugby anche nell'ultimo trimestre, quindi la squadra di rugby che dovrebbe debuttare in C2, che è l'ultimo livello, per portarla mano a mano negli anni magari a livelli molto più alti rispetto a quello che è il livello di inglese. L'ingresso che è quello della C2. Ovviamente con tutte le difficoltà del caso, perché ricordiamoci sempre, come dice il direttore del Bene, che noi utilizziamo studenti universitari, non utilizziamo professionisti o comunque persone che non sono legate al mondo universitario. Quindi è una sfida nella sfida.